I risultati di apprendimento attesi sono un'ottima partenza per una buona progettazione didattica, ma da dove possiamo trarre ispirazione per la loro formulazione? Dobbiamo limitarci a esprimere risultati di apprendimento attesi in termini di conoscenze ed applicazioni, oppure possiamo provare ad esplorare altre tipologie di sapere che possono esprimere meglio i risultati che noi ci aspettiamo, raggiungono i nostri studenti in termini di conoscenze, abilità e competenze. In realtà noi abbiamo a disposizione due importanti strumenti logici che ci possono aiutare proprio nell'ampliare il panorama delle tipologie di apprendimento che ci possiamo aspettare. Uno potrebbe essere la tassonomia di Bloom e l'altro il sistema dei descrittori di Dublino. Incominciamo dall'esplorazione dei descrittori di Dublino. I descrittori di Dublino prendono il loro nome proprio dalla città di Dublino, nella quale furono presentati nel 2003, nell'ambito del processo di integrazione dello spazio educativo europeo e hanno come scopo proprio quello di di facilitare l'esplicitazione dei risultati di apprendimento attesi alla fine di un percorso formativo, in modo da renderlo più confrontabile con altri analoghi nell'ambito dello spazio educativo europeo. In che prospettive devono essere esplicitati i risultati di apprendimento attesi per facilitare il confronto tra i percorsi nell'ambito dello spazio educativo europeo. Allora, i descrittori di Dublino ci invitano a mettere a fuoco alcune particolari prospettive. Allora, in primo luogo ci chiedono di esplicitare le conoscenze che il nostro percorso di studio, il nostro insegnamento si propone, ma naturalmente non si fermano qua, perché il passaggio successivo è quello dell'esplicitazione delle abilità di applicazione delle conoscenze ottenute che i nostri studenti saranno in grado di sviluppare. Ma non ci si ferma qui, perché l'idea è che, una volta sviluppate conoscenze e le abilità per applicarle, è molto importante anche focalizzare i risultati in termini di sviluppo del pensiero critico che gli studenti riusciranno a raggiungere grazie al percorso che stanno seguendo, per cui la loro capacità di valutare e confrontare contesti diversi e in questi applicare le conoscenze che hanno acquisito. Un punto molto importante, secondo i descrittori di Dublino, è anche quello delle abilità di comunicazione che saranno sviluppate, quindi la capacità di comunicare le conoscenze, ma anche le abilità e le dimensioni di pensiero critico sviluppate nell'ambito di un processo formativo. Un'ultima dimensione dell'apprendimento sulla quale i descrittori di Dublino ci sollecitano è quella dell'imparare ad imparare. Quindi, rispetto ad un percorso formativo, dovremo anche esplicitare quali acquisizioni in termini di competenze di apprendimento autonomo abbiamo stimolato negli studenti. In che cosa ci possono essere utili i descrittori di Dublino nel momento in cui andiamo a formulare i risultati d'apprendimento attesi del nostro insegnamento? Ci possono aiutare a ricordare che, naturalmente, è molto importante aiutare i nostri studenti a sviluppare delle conoscenze e l'abilità per applicarle, ma è fondamentale anche accompagnare lo sviluppo delle loro abilità di valutazione, confronto di pensiero critico, delle abilità di comunicazione e, molto importante, anche delle abilità di apprendimento autonomo. Quindi, già qui vedete come questo sistema di descrittori può costituire proprio uno stimolo creativo ed ideativo che ci porti ad esplicitare dei risultati d'apprendimento attesi più ampi e più ricchi e che, magari, rispecchino in modo più efficace quella che è la nostra filosofia di insegnamento e l'obiettivo finale a cui vorremmo portare i nostri studenti. Però, attenzione, non dobbiamo confondere un sistema di descrittori con un modello esaustivo che descriva le tipologie di sapere. Quando noi parliamo dei descrittori di Dublino parliamo di un sistema di descrittori, quindi di etichette cose che ci possono servire a etichettare, quindi a classificare, a descrivere in modo più chiaro e confrontabile, come abbiamo detto, con altri sistemi i risultati di apprendimento che noi stiamo formulando. Non si tratta, invece, di un modello esaustivo delle tipologie del sapere, perché se lo confondessimo con un modello esaustivo delle tipologie del sapere potrebbe avere qualche carenza, perché, per esempio, non fa riferimento a tutte quelle abilità di ideazione, di creatività, di problem solving in contesti variabili e complessi, di collaborazione, che sono elementi fondamentali per lo sviluppo delle competenze del nuovo millennio. I descrittori di Dublino possono, quindi, oltre che ispirarci nella formulazione di risultati di apprendimento attesi più ampi e diversificati, possono anche aiutarci ad etichettare, a mappare e, quindi, in qualche modo, a descrivere e rendere confrontabili dei risultati di apprendimento attesi anche piuttosto articolati. Ad esempio, vediamo questo risultato d'apprendimento. Gli studenti saranno in grado di esporre in forma scritta i concetti di base della cinematica utilizzando correttamente il linguaggio disciplinare e il sistema notazionale internazionale. In questo caso, noi potremo etichettare, utilizzando i descrittori di Dublino, questo risultato d'apprendimento, sicuramente con il descrittore numero 1, conoscere, ma anche con il descrittore numero 4, comunicare. Siamo ora al momento della sintesi. I descrittori di Dublino sono un sistema di descrittori dei risultati di apprendimento attesi, ricordate, conoscere, applicare, valutare, comunicare, imparare ed imparare, che non solo possono ispirarci nell'ampliare la formulazione dei nostri risultati d'apprendimento, ma che ci possono anche aiutare a mappare, ad etichettare i risultati d'apprendimento che formuliamo in modo che siano più comparabili nel sistema formativo europeo.